benvenuti ad una nuova puntata di conoscere i funghi oggi all'interno del bosco abbiamo fatto anche un incontro molto particolare io l'ho già chiamata samantha non so perché ma forse poi qualche lettera già è azzeccata si chiamava salamandra la salamandra pezzata che è facile incontrarla nei boschi quando appena dopo una pioggia o quando sta per minacciare pioggia quindi quando c'è tanta umidità è facile fare questi incontri allora oltre a samantha la salamandra abbiamo anche oggi funghi per fortuna cosa oggi oggi abbiamo incontrato uno xerocomus è un fungo che appartenente alle poletacee quindi un parente stretto dei porcini in questo caso è xerocomus pruinatus xerocomus pruinatus è un bolletto di dimensioni medio piccole raggiunge al massimo i 10 gli 8 10 centimetri di diametro e inizialmente è chiuso con il cappello emisferico quasi convesso poi pian piano tende a distendersi nella stessa successione di forme dei porcini per per dirsi la superficie di questo cappello così anche come ce lo ricorda il nome è asciutta un po pruinosa ed è una superficie non liscia ma grinzosa presenza numerose grinze piccole depressioni promontori quindi è una superficie tutt'altro che regolare sul margine del cappello si intravede un carattere abbastanza importante per questo fungo che diviene evidente dove è stato il fungo è morsicato dalle lumache in questo caso si vede quella arrossamento della carne ecco l'arrossamento della carne è abbastanza caratteristico in questo e in pochi altri funghi di questo di questo genere i tubuli sottostanti sono gialli un po irregolari non sono perfettamente cilindrici ma hanno una forma un po irregolare e il gambo presenta una colorazione in superficie che va dal rosso vinoso fino al brunastro verso la base che poi però è avvolta da un micelio bianco giallino che ne copre completamente il colore sottostante se noi andiamo a tagliare il fungo vediamo che la carne interna è gialla vedete la carne perfettamente gialla osservando sotto la cuticola però si intravede appena una linea rossa che è il pigmento della cuticola più profondo che può comparire quando con il secco la cuticola in superficie si screpola e lascia intravedere una colorazione rossastra sottostante mi viene naturale chiederti ovviamente se questi sono commestibili sì quasi come molte altre bolletacee gli xerocomus sono sono commestibili non sono di ottima qualità ma se sono di piccole dimensioni freschi e sani si possono consumare mi inviterai un giorno beh vediamo come ti comporti nelle prossime puntate allora ci vediamo la prossima puntata di conoscere i funghi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti